Prima versione della Total Audience, riorganizzazione dell'ascolto non riconosciuto e lancio del codice univoco degli spot video. Sono queste le tre novità contenute nell'annuale relazione al Parlamento che il presidente di Auditel, Andrea Imperiali, ha illustrato nella Sala Zuccari del Senato, dal titolo Mercato globalizzato e transizione digitale, le nuove sfide per la TV e per Auditel. Con la Total Audience sarà possibile monitorare attraverso tecnologie e metodologie innovative tutti i contenuti o anche frammenti di contenuto attraverso tutte le piattaforme e tutti i device, in casa o in mobilità, live e on demand. In un contesto sempre così complesso e così articolato Auditel è chiamata ad aggiornare, a continuare il suo percorso di evoluzione e di innovazione per rispondere alle esigenze del mercato e per intercettare tutta questa complessità. Sul fronte pubblicitario, grazie a un codice univoco, Auditel è ora in grado di tracciare ogni singolo spot video fruito su tutte le piattaforme e su tutti i device. Il rapporto è precisissimo, ricco di tanti stimoli, sottolinea anche una serie di criticità che devono essere non solo da stimolo ma anche da impulso dall'azione del governo, sia a livello nazionale sia evidentemente a livello internazionale perché a partire dal copyright che è stata la prima direttiva ci sono tutte le altre direttive competenti degli altri ministeri che sono adesso in Europa e che vanno in qualche modo nella direzione ospiegata dal rapporto Auditel. L'analisi dell'Auditel mette in luce anche l'importanza di un'informazione pluralista.